L'ospedale di Feltre ha il suo nuovo pronto soccorso. Dopo radiologia un altro tassello si inserisce nella grande opera della piastra chirurgica che doterà il nosocomio feltrino di spazi e strumentazioni all'avanguardia. Tra le novità del nuovo OPS, l'area dedicata al triage avanzato nel quale il personale infermieristico avrà il compito di porre in sicurezza entro pochi minuti dall'arrivo i pazienti a cui è stato assegnato un codice maggiore. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina e non poteva mancare. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che dopo aver ricordato gli importanti investimenti riguardanti a sanità, ha sottolineato come nessuna struttura ospedaliera a Veneta sia stata chiusa o depotenziata. Nel caso specifico di Feltre, poi, l'intera piastra chirurgica sta per rinascere, più moderna e funzionale. Qui stiamo parlando di investimenti di quasi 45 milioni di euro. La piastra viene più di 40 milioni di euro. Stiamo parlando di sette sale operatorie che inaugureremo la volta di gennaio-febbraio 2020. Stiamo parlando della rianimazione. Stiamo parlando di un intervento che è un ospedale nell'ospedale. Questo è quello che avevamo promesso a Feltre e questo è quello che abbiamo realizzato. C'è però un grave problema che affligge il territorio bellunese, il Veneto ed in generale tutta l'Italia. La carenza di medici. Un problema che, secondo Luca Zaia, va affrontato così. Lo si deve risolvere dal punto di vista proprio legislativo a livello nazionale. Abbiamo il limite delle borse di studio per le specialità. Ricordiamo che un ragazzo che si laurea in medicina non può lavorare. Deve farsi altri 5 anni di specialità, a differenza dei partner e dei colleghi europei. E dall'altro abbiamo pochi specializzati rispetto a quelli che ci servono. L'ultimo concorso di pronto soccorso per 80 posti liberi ha prodotto solo tre assunzioni.